È la critica nei confronti dei partiti tradizionali ad aver portato all'ascesa dell'estrema destra in Austria e alla vittoria alle ultime elezioni. Secondo gli analisti, i messaggi semplici del Partito della Libertà, come quelli sui migranti, hanno contribuito a differenziarlo dalle altre forze e a permettergli di guadagnare consensi. La crescita dei partiti di estrema destra è evidente non solo in Austria, come testimoniano le recenti elezioni in Francia e Germania. Il trend austriaco è però significativo. Nel 1983 i socialdemocratici e i conservatori raccoglievano quasi il 91% dei voti, ora sono scesi a meno del 50%. Il Partito della Libertà storicamente ha svolto un ruolo politico in Austria a livello locale, ma ora per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale è diventato il primo partito. T District 1. Torni di Austria a livello dei suoi partiti, di politico in Austria e piccola vorrà una parte di coalizione per nominare la maggioranza della parliore. Con i politici partiti abbiano calciata ideologi con la need per un Everettia infezionale, Austria' politico futuro sta in mirare. Euronews in Vienna, Austria, Jan Hussar